Sono i cittadini a difendere i magistrati, c'è un'iniziativa dei cittadini europei sullo Stato di diritto, For My Rights, che sta cercando di raccogliere un milione di firme in tutta Europa, proprio a difesa dello Stato di diritto, per chiedere all'Unione Europea di fare una nuova legislazione per rafforzare la capacità dello Stato di diritto, il che dimostra che i cittadini si rendono conto che la loro libertà e i loro diritti dipendono dall'indipendenza della magistratura. Oniz, l'altro giorno...